Allora, abbiamo dimenticato di dire parte A e parte B, quindi rimangono da ordinare solo quelle Questa è comunque la parte C, quindi almeno questa Allora, stavamo dicendo che abbiamo definito la misura per ogni flui di intervallo T Ripeto, se noi adesso prendessimo, diciamo, la tentazione Sarebbe quella di fare E contenuti in Rm Se io dico che la misura di E è uguale all'estremo superiore Delle misure dei pluri intervalli Che deve coincidere con l'estremo inferiore della misura Dei pluri intervalli P contenente E Allora, se definisco Mi verrà la cosiddetta misura di Peano Giordani Che non è numerabilmente additiva Quindi non mi viene una misura secondo quello schema che abbiamo stabilito Quindi questo tipo di approssimazione è la più standard, è la più intuitiva Ma per avere le proprietà che vogliamo noi E quindi anche il treno della convergenza dominata di Rebeck Non va bene Per quale motivo? Il motivo è molto semplice Prendiamo in R2 Prendiamo E uguale Q intersecato 0,1 Cartesiano 0,1 Questo sarebbe il sottografico della funzione di Richelieu Sarebbe un insieme del contenuto quante Tante di queste linee Su ogni razionale c'è la linea C'è il segmento Su ogni razionale Su ogni razionale non c'è Non lo posso veramente disegnare Perché i razionali sono densi Però dovete immaginare tante linee Così dense Cioè ogni volta che ingrandisci ci stanno Però insieme ci sono tante linee Non ci stanno In mezzo ci sono tante linee Non ci stanno Allora questo insieme qua Se proviamo ad approssimarlo con i pluri rettangoli Non va bene Perché da fuori Il più piccolo pluri rettangolo Che contiene in tutto È il quadrato 0,1 per 0,1 Meno di questo Appena prendo qualcosa in meno Ci sono delle linee che accionano fuori Da dentro Non posso prendere niente Neanche un piccolo rettangolino Perché ogni rettangolino Per la densità di 15,1 È un'interseca delle linee verticali Quindi Quando andiamo a fare questa definizione Quell'insieme lì Da fuori Questo estremo inferiore Mi viene 1 E da dentro Questo estremo superiore Mi viene 0 Quindi quell'insieme là Non è misurato Il secondo piano Ma quella è un'unione numerabile di segmenti Prendiamo un singolo segmento Prendiamo un punto cartesiano 0 Questo è Ce l'ha l'area Sì Un segmento ce l'ha l'area L'area fa 0 L'area di un segmento è 0 La posso approssimare dall'esterno Quanto mi fa Anche secondo questa definizione Un segmento ha l'area 0 Il problema è che I segmenti Sono in una quantità numerabile Faccio l'unione Di questi segmenti A due a due di giù Sono numerabili Se la misura fosse Numerabile meditiva La misura di questi insieme Dovrebbe venire 0 Ma se faccio questa definizione Se adotto questa definizione La misura di quell'insieme Non c'è Allora però Prima di andare a esaminare E risolvere il problema Guardate che Questo è lo stesso schema Della definizione Degli integrati Prima dell'anno passato L'estremo inferiore Degli integrati Delle funzioni Ascalino minorano È la stessa cosa Lo stesso schema Perciò ci insistevo Tanto l'anno scorso Tanto è vero Sapete bene Che Chi non usare la definizione Non basta L'esame Ok Stavolta Questa definizione Che è simile A quella Andrebbe bene Per costruire L'integrati Di Riemann Però avremmo solo Alcune proprietà Non ne avremmo altre Quindi cosa dobbiamo dare Dobbiamo dare Una definizione Più sofisticata Più sofisticata La quale però Si riduca a questa In molti casi Quindi deve essere Più sofisticata Però deve coincidere Con questa Quando questa funziona Questa è Adesso la diamo Prima la diamo E poi aggiustiamo Tutto quello Che deve essere aggiustato Ok Anzi Le diamo Perché Si articola In mare di Allora Allora Prendiamo Cominciamo A dare La definizione Di misura Di una pelle Speriamo che venga La lezione Questa cosa Si va a scatti Fatemi spegnere E riaccendere Perché Ok Allora Dicevamo Dobbiamo dare La definizione In maniera Tale Che si riduca A quella Che mi dà La definizione Di Deano Jordan Nei casi In cui le due Coincidono Ma che sia Più generale Allora Cominciamo Con dare La definizione Di misura Di un aperto Prendiamo A Un aperto Contenuto In R Allora Per noi La misura N dimensionale Di A È uguale Per definizione All'estremo Superiore Delle misure Delle misure N dimensionali Di P Dove P È un Pluriintervallo P contenuto in A Allora L'idea è Che Gli aperti Si approssimano Solo dall'interno Questo perché I pluriintervalli Noi abbiamo preso i segni aperti Per comodità Ma li possiamo prendere Quando abbiamo preso Prendiamo un pluriintervallo Possiamo prendere La parte interna Vi ricordate che L'unione di aperto È sempre aperta Mentre L'intersezione di più È sempre chiusa Quindi Io posso ottenere Un aperto Poi c'è una Osservazione in più Come un'unione Numerabile Di pluriintervalli Crescenti Ma se allora Posso ottenere Questo poi è un lemma Che dimostriamo Quindi nel momento In cui posso ottenere Un aperto Come unione Di una quantità Numerabile O limite Di una successione Di più intervalli Crescenti Noi sappiamo Che la misura Devete passare al limite Sulle successioni Crescenti Insieme E quindi Non ho altro modo Di definire La misura In questo modo Quindi Sugli aperti Mi basta fare Questo Ok Da lì si vede subito Che questa definizione È obbligata Andiamo a vedere Come devo fare La misura Di un compatto A parte che noi Non sappiamo ancora Che sono i compatti Di Rn Dimostreremo Che sono Insieme Di Rn Come Nero Però sappiamo Quello che abbiamo Dimostrato L'anno scorso Che un compatto È sicuramente Limitato e chiuso Quello che non sappiamo È che se è un limitato E chiuso È anche Quindi K contenuto In Rn K Compatto Ok La misura N dimensionale Di K Per definizione Chi è? È l'estremo inferiore Delle misure N dimensionali Di P Tali che P È un plurio intervallo E P Che io metto? No Contiene K Se metto contenuto L'estremo inferiore Viene 0 L'estremo inferiore Delle misure Dei plurio intervalli Contenenti Imparatevi L'estremo inferiore Contenenti L'estremo inferiore Contenenti Se no Non c'è Perché si prende E qua Un insieme Compatto Perché un compatto È sicuramente chiuso Ma non prende Chiusi Perché Un chiuso Può essere illimitato Se è illimitato Un plurio intervallo Contenente Non ci sta Chiaro Invece Se è un compatto È limitato Ci sono I plurio intervalli Contenenti E quindi In particolare Le misure dei compatti Faranno Fi Finito Qua invece La misura di un aperto Può essere benissimo In fi Infinito Perché questo sistema superiore Può fare più infinito Chiaro Fino a qui Ok Adesso Adesso Sta dimostrando Sta definizione Funzionerà Non funzionerà Chi lo sa Però non abbiamo finito Perché in questo modo Noi Sappiamo misurare Soltanto gli aperti E i compatti Già se prendiamo I plurio intervalli Non rientrano Né nell'una Né nell'altra categoria Perché sono semi aperti Cioè Già gli intervalli Sono semi aperti A destra Non sono né aperti Né come Allora Dobbiamo Andare a definire La misura Di un intervallo E Di un insieme E in generale Allora Come Si farà La misura L è qui S qua Ebbene S qua Però Allora Abbiamo Però Facciamogli il caso Di un insieme Di che Limitato Quindi prendiamo L'insieme Limitato Allora La misura N dimensionale Di E È definita Come L'estremo Inferiore Delle misure Allora Qua Che ci devo mettere Secondo voi Degli insiemi Contenenti Contenenti E Chi ci devo mettere Di aperti O compatti E questo Deve coincidere Con l'estremo Superiore Delle misure Dei compatti Contenenti Chiara? Cioè Per la precisione Io dico Che è un insieme Misurabile Secondo Lebeck Quando questi due Numeri coincidono E si chiama Misura di Lebeck Questo numero Che è uguale A questi due Coincidenti Anche qua Dovrete Ci insisto Sulla definizione Perché Non ha senso Fare Il contrario Perché Innanzitutto Quando è contenente Ci devo mettere Per forza Inf E quello Lo sappiamo Perché se ci metto Sup Viene più Infinito E quando è contenente Ci devo mettere Per forza Sup Perché se ci metto Inf Viene zero E quello Deve essere Chiarissimo Poi l'unica Scelta Che mi rimane Siccome ho fatto Gli aperti e i compatti Voglio usare Due categorie Di insiemi diversi Due famiglie Di insiemi diversi Per approssimare Il mio insieme Da fuori Voglio usare Gli aperti E da dentro Voglio usare I compatti Se facessi Il contrario Che cosa avrei? Quando vado A fare I compatti Contenenti L'intersezione Di tutti I compatti Contenenti È un Compatto Quindi Sarebbe Nudo Dire L'inf Dovrei dire Il minimo C'è un Compatto Più piccolo Di tutti Gli aperti Contenuti L'unione Degli aperti Contenuti È un aperto Quindi dovrei dire Che esiste Un compatto Contenente E un aperto Contenuto Che hanno La stessa misura Ok? Che Magari è vero Ma magari no Pensate al caso Di prima Della In cui l'insieme L'ha fatto Da tante listarelle Verticale Q Intersecato 01 Cartesiano 01 Qual è Il più piccolo Compatto Che lo contiene È sempre Lo stesso Insieme Di prima Qual è Il più grande Aperto Contenuto Il vuoto Perché appena Prende un aperto Contenuto Quello deve Contenere Un rettangolino Aperto Dentro Prende Un rettangolino Aperto Dentro Interse Con Quelle Di stare Quando invece Devo Contenere Questi sono Densi Quando vado A chiudere Ottengo Tutto Il La chiusura Di questi Insieme Tutti Il quadrato 01 Per 01 Quindi Il più piccolo Compatto Contenuto È Quindi Se faccio Il contrario Ottengo La stessa Cosa Di prima Quindi Non ci ho guadagnato Niente Chiaro Resta Da vedere Se facendo Così Ci ho guadagnato Qualcosa Quindi Questa definizione È Diciamo Se vogliamo Usare Gli aperti E compatti È in qualche modo Anche questo Obbligabile L'estremo Inferiore Lo devo fare Con gli aperti Contenenti L'estremo Superiore Lo devo fare Con i compatti Contenenti Adesso Rimane Da vedere Che è tutto Fuso Allora Può rimane Anche da vedere Il caso Non limitato Per il caso Non limitato Non lo voglio Fare adesso Perché Si deve Distinguere Il caso Limitato E il caso Non limitato Per un altro Problema Che capiremo Meglio Più avanti Ok Tuttavia Sostanzialmente La cosa Funziona Cosa Dobbiamo provare Adesso Ci abbiamo Un bel piano Perché Dobbiamo provare Primo Che queste definizioni Sono covalenti Tra di loro Per esempio Un aperto Può essere Anche limitato E un insieme Diciamo Posso anche Vederlo Come un insieme Qualunque Quindi L'estremo inferiore Delle misure Degli aperti Contenenti È la misura Sura Devo vedere Che per ogni Aperto La sua misura Coincide con L'estremo inferiore Della misura Degli aperti Contenenti Perché Se no La cosa Non funziona Poi Per ogni Compatto Devo vedere Che la sua Misura coincide Con l'estremo inferiore Delle misure Degli aperti Contenenti Perché Anche In quel caso Se prendi Il compatto Contenuto Più grande È lui stesso E quindi Qua mi viene La sua misura Dall'altra parte Mi viene Estremo inferiore Delle misure Di aperti Contenenti Quindi Anche lì Devo verificare Che coincide Perché se no Otterremmo Che gli aperti Compatti Erano misurabili Perché Abbiamo detto Che sono misurabili Poi quando vado A mettere I qua Non sono misurabili Ma poi Se sono misurabili La misura La stessa di prima Non è che posso avere Definizioni Che mi diano Un luogo A risultati Diverse Quindi Questa è La prima parte Controllare Che noi abbiamo Dato tre Definizioni Diverse Pluintervallo Aperti Compatti E insieme In generale Queste tre Definizioni Quando uno Insieme A un insieme Si possono applicare Più Definizioni Devono Assolutamente Coi C E questo è Più Poi dobbiamo Vedere Che la misura Ha le proprietà Di una misura Cioè Che Non negativa E numerabilmente Additiva Quindi Non è Po Noi non faremo Tutto nel dettaglio Però Faremo Anche qui Le cose Essenziali Cioè le cose Che ci permettono Di capire Perché sta Teoria funziona E' chiara? Non è così Complicata Assurda Come sembra Vi ho fatto vedere Che sostanzialmente Se vogliamo Dovete tenere Sempre in mente Che il vostro Faglio La vostra Bussola Deve essere Il fatto Che voi Volete Passare Al limite Sotto il segno Integrale Volete portare Il limite Sotto il segno Integrale Volete portare Il segno Di serie Da dentro A fuori L'integrale Questo Lo fate Tutti i giorni Lo fate In Teoria dei segnali Lo fate In elettrotecnica Lo fate In fisica Lo fate Tutti i corsi Se volete Se volete Dovete Fare Questo Non è che C'è Le alternative Chiaro? Quindi Poi Non è che Ci mettiamo Non siamo a fare Il corso di line In matematica Per cui ci mettiamo A fare i dettagli Però almeno L'idea principale La dovete capire Allora Per far vedere Che Ci guadagno Qualche cosa Allora Andiamo a vedere Che Mostriamo Che Posto Che questa Sia una misura La cosa Diciamo Non è ancora Dimostrata Sarà dimostrata Quando verificheremo Che questa Effettivamente È una misura Che Però La misura Una dimensionale Così definita Di Q Intersecato 0,1 Cartesiano 0,1 È uguale A 0 La misura Due dimensionale L'A Con lo stesso Ragionamento Togliendo Togliendoci Prodotti cartesiani La lunghezza Di quest'insieme È 0 Quindi Io lo faccio Perché ho fatto Quell'esempio Lì Ma Potrei anche Dimostrare Che la lunghezza Di quest'insieme È 0 Ok Dimostrazione Mi basta verificare Che questo Estremo inferiore È 0 Perché È chiaro Che Se questo È 0 L'altro Questo Questo numero Qua Ecco Un'altra Cosa Che non ho detto Quando un Compatto K È contenuto In un aperto A Questo pure Lo dimostreremo Esiste Un pluriettangolo P Tale che K È contenuto In P Che è contenuto In Questo è vero Allora Questo cosa Ci dice Questo ci dice Che Questo numero Qua È per forza Più piccolo Di quello È minore o uguale Poi Certe volte È uguale Certe volte È uguale Che qua Modino Perché La misura Di K È più piccolo Della misura Di P Che è più piccola La misura È Se vi ricordate La definizione Misura di K Di misura Di K E T La misura di K È l'estremo inferiore Quindi La misura di P È un maggiorante Anche per la misura di K La misura di P È un minorante Per la misura di A E quindi Otteniamo Quindi Se io dimostro Che questo fa zero Questo qua È più piccolo E quindi Pure lui fa zero È chiaro? Va bene Allora Come si Si fa Fisso Un'epsilon Così Allora Q Intersecato Zero Uno È un insieme Numerabile Quindi Lo posso scrivere Come una successione Allora Andiamo a Prendere Questi insieme qua A con uno Uguale Q con uno Meno Epsilon Fratto 2 alla n Più uno Q con uno Fratto Mettiamo direttamente A con n A con n Allora Allora Meno Allora Schrivo qua Zero Uno L'insieme che sto Di cui sto provando Della misura fa zero È questo Se volessi provarlo Con l'insieme chiuso qua Qua dovrei mettere Meno Epsilon Uno più Epsilon Si complica il ragionamento Ma la sostanza È esattamente la stessa Non è un problema Non è un problema Allora Se io faccio L'unione Per n Che va da uno A infinito Di Q con n Meno Epsilon Fratto 2 alla n Più Q con n Più X Fratto 2 alla n Più 1 Quest'unione Contiene Contiene L'unione Per n Che va da uno A infinito Dei punti Q con n E per forza Ogni insieme Contiene Q con n Insieme all'ennesimo Contiene Q con n E questo contiene Unione di Q con n Ma quest'unione È uguale a Q Intersecato E questo E questo È un certo Avetto A Chiamiamolo Non A Chiamiamolo I No io non mi piace Neanche Chiamiamolo B Ok Questo sta in R Questo sta Allo stesso modo L'unione Degli A con n Per n Che va da uno A infinito Che cosa c'è di diverso Rispetto a quest'unione qua C'è semplicemente Il prodotto cartesiano Con 0,1 Quindi questo qua Deve contenere Q Intersecato 0,1 Cartesiano 0,1 E questo qua È un aperto A A Sta in R2 A Allora io Che cosa so Se la misura È veramente una misura La misura N Scusate Due dimensionale Di A Cioè L'area di A Deve essere Minore o uguale Della somma Per n Che va da uno A infinito Della misura Due dimensionale Di A con n Per quale motivo? Perché questa è un'unione Ma non è in generale Disgiunto Quando prendo Allora Quando io prendo Q con uno Prendo l'intervallino Quando capiterà Un altro Per esempio Q2527 Qua dentro E l'intervallino Che diciamo Che costruisco Attore Q2527 Intersegarà Q con uno Ok Quindi Questo unione Non è disgiunta Cosa vuol dire? E quando faccio L'area di A Qua posso non avere L'uguale Però sicuramente Minore uguale Ma come si fa L'area di A con n? Come si faceva In terza elementare Base Per altezza Quindi qua mi viene Somma Per n Che va da 1 A infinito La base Epsilon su 2 Alla n Perché la semiambiezza Epsilon su 2 Alla n È 1 L'altezza Vale 1 Allora Chi è questa serie? Epsilon mezzi Epsilon 4 Epsilon 8 Epsilon sedicesimi La somma qua Quindi cosa ho mostrato? Che esiste un aperto A Contenuto in R2 Misurabile lo è Perché per noi tutti Gli aperti sono misurabili La sua misura Bidimensionale Contiene questo insieme qua E la sua misura La sua area È più piccola Di Epsilon A Questo che vuol dire Che quello insieme L'area Se questo è effettivamente Una misura C'ha misura Z Cioè L'area del sottografico Della funzione di Lichelè Fa Z La funzione di Lichelè Sarà integrabile Secondo Rima E l'integra Farà Z Chiara? Questo è Importante Perché mi dice Che qua Le cose funzionano Anche quando faccio Una serie Di funzioni Non mi devo preoccupare Mi devo preoccupare Soltanto che Va bene Qua è minore di Epsilon E poi faccio Siccome Epsilon è arbitrario Per essere inferiore Fa Z Chiara? Ok Quindi Questo è La Il guadagno Che abbiamo Il guadagno Che abbiamo È Che molti Insiemi Che non erano Misurabili Secondo Iniziamo Con il nostro Programmo Cominciamo Per capire Chi sono I compatti Di Di Allora proposizione K contenuto in ADN è compatto se solo se K è chiuso e limitato chiuso e limitato rispetto alla topologia o quell'idea cioè quella indotta dalla distanza e quella che abbiamo visto in analisi 2 dimostrazione questa freccia non la devo dimostrare, è già fatta perché quale motivo? perché se vi ricordate in analisi 1 abbiamo dimostrato che in uno spazio metrico se un insieme è compatto deve essere per forza chiuso e limitato per dimostrare il contrario come facevamo, se vi ricordate in analisi 1 e praticamente faremo una cosa simile anche adesso facevamo vedere che un intervallo chiuso a B era compatto perché facevamo vedere che un intervallo chiuso a B era compatto? prendevamo una successione X con N con delineo a B facevamo il massimo rin e il minimo rin quindi abbiamo estratto due sottosuccessioni convergenti vabbè, se poi la successione c'era il limite il limite era lo stesso però almeno la sottosuccessione convergente esiste in A B poi usavamo il risultato che un sottoinsieme chiuso di un insieme compatto è compatto quindi un insieme chiuso e limitato è contenuto dentro un intervallo chiuso e quindi un sottoinsieme chiuso di un insieme compatto è compatto adesso come dobbiamo procedere? cominciamo col dimostrare prendiamo un intervallo chiuso intervallo chiuso che è A con 1, B con 1 cartesiano, cartesiano, A con N, B con N A con N è grande, B con N è grande N è grande il numero delle cartelle poi prendiamo una successione X con H lo chiamo H perché io spesso mi confuto con la N la chiamo meglio X con H contenuta in I ogni X con H è un vettore quindi ha le sue coordinate X1H XNH allora la prima cosa andiamo a prendere la successione X1H questa successione è compressa tra A con 1 e B con 1 per quale motivo stando in I le prime coordinate devono essere comprese tra A con 1 e B con 1 allora posso dire che esiste una sottosuccessione XH HG uguale X1H G X2H G XNH G attenzione che le stratte la faccio su tutte le coordinate però tale che il limite su G di X1H G esiste e fa X1H che ovviamente è compreso tra 1 e B1 cioè io cosa faccio? mi concentro sulla prima coordinata estraggo una sottosuccessione in maniera tale che la successione converte quale successione? quella delle prime coordinate però attenzione adesso cosa so? che le prime coordinate converte le altre non sono nulla però sulle altre faccio la stessa strada ok? a questo punto continuo di qua cosa so? che esiste un'altra sottosuccessione XH G K tale che quindi X1H G K X2H G K XN H G K attenzione che queste sono è la sottosuccessione della sottosuccessione tale che il limite di X2H G K su K è uguale a X con 2 che sarà con tra con e B cioè l'idea è quella ho fatto un estratto e ho fatto convergere la prima coordinate facciamo una seconda estratta e facciamo convergere la seconda coordinata la domanda è che succede a questo limite qua questo limite qua esistono voi sapevate che X1H G convergete X1H G K che cos'è un estratto di questi ma se una successione converge un estratto continua a convergere lo stesso limite quindi che cosa ho che facendo l'estratta dell'estratta io faccio convergere la seconda coordinata senza perdere la convergenza delle prime coordinate se faccio due estratte diverse non funziona perché magari le prime coordinate convergono per gli indici pari le seconde convergono per gli indici dispari e come faccio a fare un estratto che fa convergere tutte due invece così funziona perché prima faccio l'estratto e faccio convergere la P poi faccio l'estratto delle strette e faccio convergere la è chiaro che questo procedimento se io devo scrivere gli indici devo scrivere H J K L H J K L N non si però è chiaro che questo procedimento può funzionare e così via cioè può continuare per tutte le N coordinate perché io ogni volta faccio convergere la coordinata successiva senza perdere la convergenza delle coordinate precedenti e quindi questo sistema con questo sistema arrivo finale quindi il quindi un intervallo di uso quindi se I è intervallo di uso I è concorre adesso prendiamo K chiuso e limitato poiché è limitato esiste intervallo chiuso tale che K è contenuto I perché è limitato no? è limitato significa esattamente contenuto di intervallo lo chiuso è contenuto intervallo intervallo quindi per la sota è anche chiuso quindi K è un sottinsieme chiuso di I ma I è compatto un sottinsieme chiuso di un compatto è compatto poiché K è un sottinsieme chiuso di un compatto è compatto quindi non cambia niente da R R2 R3 a R non cambia niente i compatri sono sempre soli in dimensione infinita questo non è in dimensione infinita rispetto alla topologia forte la sfera unitaria non è compatta è chiuso e limitato però questo è un altro discorso non mi riguarda riguardo a quelli che fanno la lava non c'è sta ok quindi i compatri sono chiusi e limitati la mia sappiamo questo poi adesso andiamo a vedere questa proprietà prima andiamo a vedere questo risultato questo qua vale in generale nello spazio medico ok supponiamo che K sia abbiamo uno spazio medico X questo non mi ricordo se l'ho fatto vedere anno scorso però se l'ho fatto vedere lo ripetiamo K è contenuto in un unione io per comodità impongo che l'unione sia numerabile ma è bello anche se l'unione non è numerabile di aperti questo si chiama ricoprimento aperto ricoprimento aperto ovviamente questo qua è un aperto perché è un numero di aperti allora esistono un numero finito di aperti n1 nk tale che l'unione per C che va da 1 a K di A con N i contiene K quindi se io ho un ricoprimento di un compatto con degli aperti è inutile che considero tutta la successione numerata e ce n'è un numero finito che lo ricopri è chiaro? ma la dimostrazione è facile la dimostrazione si fa per a fine se ciò non fosse vero diciamo supponiamo anzi scriviamo meglio qua possiamo denunciare in maniera la stessa risultata denunciare in maniera più semplice esiste K tale che l'unione per N che va da 1 a K degli A con N diciamo ah chiamiamo l'H se no lo compornete col compatto dire che è un numero finito vabbè la potevano gli indici potevano non essere consecutive ma a chi se ne importa tanto vuol dire semplicemente che questo è contenuto nell'unione degli A con N fino a un certo punto è la stessa cosa allora supponiamo per assurdo che per ogni H appartenente a N l'unione per N che va da 1 ad H degli A con N non contenga K questo vi dice che esiste un punto x con H che appartiene a K meno l'unione per N che va da 1 ad H degli A con N ok prendo la successione x con H allora questa successione è contenuta in K io so che esiste una sottosuccessione x H J J estratta da x con H tale che il limite su J di x H è uguale a x che è un elemento di K ok allora vediamo che tutto ciò è assurdo per quale motivo questo è un elemento di K x appartiene a K vuol dire che esiste un indice chiamiamolo H0 tale che x appartiene ad A con H0 per quale motivo l'unione ricopre K quindi questo è appartiene da uno degli elementi di quell'unione questo che cosa vuol dire che esiste un J con diciamo J che dipende da da H0 tale tale che se L è maggiore di J allora x con N L x con HL appartiene pure lui a A con H0 ok e qual è il problema che quando L è maggiore di J HL è maggiore di L quindi HL questa cosa funziona io so che io so che HL è maggiore di L che è maggiore di J ma quando L va infinito anche HL va infinito questo deve essere vero per ogni L maggiore di J quindi quando questo va infinito a un certo punto diventa più grande di H0 e quindi che cosa otterrei otterrei che x con HL non appartiene ad A con H x con H in particolare non appartiene ad A con H x con H qua c'è scritto che non appartiene ad A con H all'unione a quest'unione per N che va da 1 a H degli A con A degli A con N quando HL è maggiore di H0 per N che va da 1 a HL ci sta pure A con H0 quindi x con H L non appartiene ad A con H0 ma poi c'è scritto che x con HL deve appartenere ad A con H0 e quindi abbiamo siccome con gli indici si può imbicciare cerchiamo di capire qual è la situazione questo è K questo è il nostro riconvenimento aperto allora nel momento in cui io estraggo la sottosuccessione che converge nel momento che questo punto sta in questo aperto qua che succede che punti x con H con l'indice arbitrariamente alto devono stare qua dentro ma i punti con l'indice arbitrariamente alto non appartengono all'unione di questi con l'indice arbitrariamente alto quando questo indice soppassa l'indice che esprimeva questo aperto qua vuol dire che non stanno in questo insieme quindi dovrebbero contemporaneamente stare in questo aperto qui e non farci quindi ciò non è possibile ok un minimo di confusione è nato da un fatto che ho chiamato gli indici HL da una parte H0 da una parte ma non è se ripetete la cosa vedete che non ci sta nessuna contraddizione ok quindi cosa ci dice questo risultato che ogni volta che ricopriamo un compatto con un aperto con degli aperti anche se gli aperti sono per esempio una successione io posso scartarne molti e lasciarne solo un numero finito un numero finito che magari non è piccolo possa essere un miliardo di aperti però ne basta un numero finito allora andiamo a vedere un altro risultato prendiamo proposizione a se K è un compatto se A è un aperto poi K è contenuto in A allora esiste il plurio rettangolo P il plurio intervallo P come si può chiamare che contiene K Siamo in Rn questo è un compatto di Rn e questo è una presa va bene ok dimostrazione sia X appartenente a K allora io dico qui esiste un intervallo con queste caratteristiche tale che la pasta interna di I contiene X I è contenuto in A I è uguale a produttoria per N che va da 1 a N grande di A con N e P con N con A con N e P con N appartenenti a U per ogni N compresso ed N grande per capire questo è molto semplice da capire allora questo è K queste A A contiene N allora l'idea qual'è? L'idea è io posso allargare diciamo sicuramente c'è un intervallino che contiene il punto questo intervallino lo centro nel punto quello che so perché? perché è contenuto in A quindi esiste un intervallino aperto che contiene X e contiene N allora l'intervallino ripeto è centrato in X lo faccio più grande allora cosa faccio? di mezzo il lato i lati dell'intervallino questo intervallino anche se lo prendo non aperto è contenuto in quello di prima perché i lati sono la metà quindi che ne chiude un po' non succede niente è contenuto in l'intervallo di prima che è contenuto in A e quindi è contenuto in A d'altro canto siccome X sta al centro anche se non lo chiudo contiene X e quindi la parte interna contiene X qual è il problema? questo intervallino non avrà coordinate razionali questo intervallo non avrà estremi di coordinate razionali però io dico per esempio se questa diciamo semiampiezza è la 2Y qua la semiampiezza dei lati è Epsilon quindi cosa devo fare? devo fare chi è quell'intervallino? è X con N meno Epsilon X con N più Epsilon produttoria per N che va da 1 a N questo è l'intervallino questo qui questo intervallino qua chiamiamolo G e quindi questo è G allora io cosa dico? A con N deve essere compreso per far funzionare la cosa A con N deve essere compreso da X con N meno Epsilon ed X con N B con N deve essere compreso da X con N e X con N più X questo per ogni N compreso tra 1 ed N per ogni coordinata stavolta gli indici di coordinata prima li avevo messi in alto per ovvi motivi perché c'era la successione adesso li metto in basso quando non c'è queste qua sono le coordinate X quindi X è uguale a X con N X con N l'altra volta l'avevo dovuto mettere in alto perché mi serviva pure l'indice della successione che dovevo mettere in basso allora se adesso vado a prendere questo intervallo I che succede? e non succede niente di grave perché questo intervallo magari non sarassi meglio però perché riduco qua un po' riduco qua un po' ma questo sta sempre in mezzo e sta e quindi appartiene sempre all'intervallo A con N B con N aperto anzi qua scusate A con N lo devo mettere chiuso perché se no non è un intervallo però diciamo quello appartiene sempre alla con N B con N aperto e quindi sempre appartiene alla parte in ok fate attenzione che il numero di punti di K non è numerabile cioè K essendo un insieme compatto i sottinsieme di R in generale hanno un insieme di punti che è alla cardinale di R del contino ma se io adesso vado a fare questo intervallino lo diamo i con x i uguale i che dipende da x se io adesso vado a fare l'unione al variare di x appartenente a K i con x io dico che questo intanto è un'unione per N che va da 1 a infinito di I con N per quanto dico questi intervallini questi intervalli sono presi in questa famiglia cioè nella famiglia degli intervalli che hanno gli estremi in cui ogni lato ha gli estremi che sono razionali quanti sono gli estremi 2N 2N grande Q alla 2N grande è ancora un insieme numerabile cioè non è solo Q che è numerabile ma anche quando prendo un insieme di vettori a coordinate razionali questo è numerabile quindi questi qua appartengono a una famiglia che è numerabile io li metto in ordine e vado a contare quelli che vengono presi quando siccome la famiglia è numerabile non posso prendere più di quelli che stanno nella famiglia casomai se i punti non sono di cardinale numerabile succederà che molti di questi intervalli verranno ripetuti più volte quando vengono ripetuti più volte ce lo metto una volta sola e quindi posso dire che questo è un nome numerabile e quindi poi che cosa so so che k è contenuto nell'unione per n che va da 1 a infinito della parte interna e qual motivo? perché ogni punto apparteneva all'interno di uno di questi ok? e se facciamo l'unione delle parti interne x un punto x di k appartiene alla parte interna di uno di questi e quindi questo è un aperto e questo scusate è un ricoprimento aperto di k questo che cosa significa? che esiste per quella proposizione che abbiamo dimostrato prima un h tale che k è contenuto nell'unione per n che va da 1 ad h di con n chiamiamo quest'indice m mi piace di più perché la n l'avevo usata come indice delle coordinate così non mi confondire e questo che cos'è? è un plurio intervallo ma siccome ciascuno degli intervalli era contenuto in a questo plurio intervallo è contenuto in a ma k in chi è contenuto nell'unione di quelli aperti che è il plurio intervallo aperto che è contenuto nel plurio intervallo che è contenuto in a quindi c'è sempre un plurio intervallo quindi questo lo volevo ulteriormente specificare non c'è la manutenza k è contenuto in b che è contenuto in b che era quello che dovevamo dimostrare quindi facciamo il riassunto e poi per oggi basta per questo lo facciamo la prossima volta perché poi sto cercando di contenere la massa dei dettagli nel vario giornale allora il riassunto di quello che abbiamo fatto oggi allora noi oggi abbiamo detto vogliamo cercare di costruire una misura su rn questa misura deve estendere il concetto di misura di piano giorda cioè deve coincidere con quello che avremmo fatto se non avessimo voluto fare integrati e poi avevamo il problema di passare da una dimensione a n dimensioni allora come abbiamo risolto questo problema abbiamo definito la misura degli intervalli e la misura dei plurio intervalli fino a qua le back e il Riemann coincidono dopodiché abbiamo detto se vogliamo fare il Riemann approssimiamo direttamente con i plurio intervalli da dentro e da fuori ma in questo modo non avremo mai la numerabile additività abbiamo dato degli esempi allora cosa abbiamo detto se vogliamo la numerabile additività gli aperti si devono approssimare da dentro e i compatti si devono approssimare da fuori basta approssimare da dentro e basta approssimare da fuori rispettivamente e stiamo facendo vedere questo non l'abbiamo finito ma stiamo facendo vedere questo quindi la misura degli aperti si definisce con l'estremo superiore della misura dei plurio intervalli contenuti e la misura dei compatti si definisce con l'estremo inferiore della misura dei plurio intervalli contenuti una volta fatto questo abbiamo a disposizione come insieme misurabili gli aperti e i compatti approssimiamo un insieme limitato poi vedremo perché poi per insieme non limitati ci sarà un'altra definizione con gli aperti da fuori e i compatti da dentro se le due approssimazioni coincidono nel senso che l'estremo inferiore della misura degli aperti contenuti è uguale all'estremo superiore della misura dei compatti contenuti diciamo che l'insieme è misurabile secondo le cose adesso abbiamo il programma di far vedere che tutto quanto funziona abbiamo utilizzato un paio di rami tecnici che ci dicono intanto abbiamo visto chi sono i compatti di rm e poi abbiamo dimostrato questo risultato che quando ha un compatto contenuto in un aperto c'è sempre un blu intervallo in mezzo che intanto prova il fatto che la misura di se ha un compatto contenuto in un aperto la misura del compatto è meno della misura dell'aperto e questo è già importante il resto lo faremo la prossima volta però una cosa la voglio preannunciare fin da adesso lo scopo è andremo a misurare un sacco di insieme ma non tutti quanti cioè qui ci si deve muovere il problema che ci sono parecchie difficoltà tecniche è dovuto a problemi intrinseci cioè da una parte dobbiamo fare meglio di rima e di piano dall'altra parte non arriveremo a misurare tutti gli insieme perché esiste una cosa che citerò la prossima volta che è il paradosso di Banak-Tarski per cui anzi lo possiamo preannunciare già da ora così chi vuole se lo può andare a vedere ci sono molti video su youtube che lo spiegano per bene nei dettagli è spiegato bene anche sulla voce in inglese di wikipedia cosa dice questo paradosso di Banak-Tarski dice che se stai in dimensione almeno 3 tu puoi prendere una palla la dividi ma non in un numero infinito di insiemi io sapevo 6 e sapevo che il paradosso era del 1928 però su wikipedia saranno più informati sanno che il paradosso è del 1924 e che adesso ci si può bastano 5 insieme tu la dividi in 5 parti la palla le giri le trasli le riassembli insieme le parti si ingastrano perfettamente per cui non ci sono buchi e esce una palla più grande più grande di raggio più grande esattamente una palla di raggio più grande qual è la risposta a questo paradosso guardate che questo dice che se io voglio misurare gli insiemi non ho problemi perché ci sta le bag ho problemi pure con l'additività finita se voglio misurare tutti gli insiemi perché se questi insiemi avessero un volume avrei ottenuto se il volume è invariante per rotazione se è invariante per traslazione cioè tu ti aspetti che il volume di questo se io lo sposto nello spazio diventa diversa no se un'unione è disgiunta le parti si ingastrano perfettamente non si sovrappongono e non hanno buchi cioè l'unione è esattamente una palla più grande il volume o lo faccio a pezzi cinque pezzi lo riassembro deve essere sempre lo stesso invece in questo caso non sarebbe lo stesso e allora il paradosso in quale fatto sta? sta nel fatto che questi insiemi non possono essere misurabili secondo nessun tipo di misura non secondo le bag e neanche secondo piano giordo ovviamente piano giordo è una misura molti di meno però questi non li posso misurare con nessuna misura cioè io non è che ho altre alternative se voglio queste proprietà non è che dici vabbè ma tu hai fatto le bag perché sei scarsa facciamo un'altra definizione più complicata ancora di le bag e vedi che riesci a misurare tutti gli insiemi no se vuoi queste proprietà cioè che il volume non gara quando lo sposto nello spazio e quando giri insieme non ci riesco cioè non ci riesco perché non è possibile chiaro quegli insiemi naturalmente questa costruzione non è che si fa così noi non la faremo ne faremo un'altra molto più semplice però è una costruzione che si può fare grazie a un assioma matematico che si chiama assioma della scelta ok senza quell'assioma la costruzione non si può fare quindi diciamo è una costruzione necessariamente di tipo astratto quindi d'ora in poi lo diciamo una volta nominiamo questo paradosso facciamo il controesempio che possiamo dimostrare eccetera eccetera per far vedere che non tutti gli insiemi sono misurabili dopodiché ce ne scordiamo perché tutti gli insiemi che incontreremo noi nella pratica saranno misurabili le funzioni saranno integrabili e quant'altro ma giusto per capire che non posso misurare tutti gli insiemi non posso integrare tutte le funzioni e questo è un fatto intrinseco non è che perché uno è scarso o uno non è scarso è così perché è così se voglio determinate proprietà quindi quello che stiamo a fare è in qualche modo forzato uno dice è difficile è non necessariamente difficile secondo me no secondo me è giusto farlo perché prima di tutto se fai una teoria dell'integrale di rima fatta bene più o meno la difficoltà è quella poi noi non stiamo facendo altro che sottolineare una volta due volte tre volte cento volte che quando portate l'integrale da dentro a fuori di una serie da dentro a fuori dell'integrale ci vuole il teorema che ve lo supporta se no non funziona ci sono le successioni che convergono a zero e l'integrale non convergono a zero abbiamo visto successioni neanche semplici da fare integrabili secondo rima quindi quando portate il limite da dentro a fuori l'integrale la serie da dentro a fuori l'integrale ci vuole il teorema che vi autorizza a farlo non si fa così eh sì perché il professore di elettrotecnia quello di teore di segnale sì perché poi matematicamente si dimostra che e noi matematicamente dobbiamo dimostrare che non è che possiamo fare come ci pare perché certe volte la cosa non è vera quindi stiamo dando un'idea sia pure limitata sia pure contenuta perché non è che possiamo fare sempre teoria poi dobbiamo fare pure esercizi che questa cosa si può fare e si deve fare in un certo modo se la volete fare bisogna fare la 3 di Lebeck d'altro canto a teore di segnale le funzioni di L2 le riconoscete dall'anno scorso quindi se volete utilizzare L2 dovete per forza fare la 3 di Lebeck L significa Lebeck non è che significa un'altra cosa va bene ok ci vediamo la settimana prossima